Inaki Andreu, coordinatore delle scuole Football Club Barcellona, avete scelto l'Abruzzo per questo scuola-camp, un scuola-camp che il Barcellona fa in Italia, perché? È il nostro secondo anno che siamo qui in Italia a fare camp e il nostro obiettivo è quello di avvicinare quella che è la nostra metodologia e le nostre tecniche calcistiche ad altri paesi, in questo caso l'Italia, e in questo caso l'Abruzzo per dare l'opportunità a ragazzi che ovviamente non vivono a Barcellona di vivere quella che è l'esperienza Barça vicino a casa. La scuola calcistica italiana è molto simile a quella spagnola del Barcellona, quindi voi cercate dei campioni, dei futuri campioni anche nel nostro paese? No, il nostro obiettivo è simplemente che ci conoscano in massa a noi. Il loro obiettivo è quello di esportare la loro metodologia in altri paesi, l'obiettivo è quello di divertirsi, ovviamente di insegnare quelle che sono le loro tecniche, però il divertimento prima di tutto. Con il simbolo obiettivo di che disfrutino, di che lo passino bene. Un'ulteriore soddisfazione per il nostro territorio, per la città Sant'Angelo. Quando noi siamo stati contattati dall'agenzia che organizza questo evento, abbiamo dato subito ampia disponibilità, sapendo che è l'unico camp organizzato nel centro Italia. Orgogliosi di ospitare un simile evento sul nostro territorio, che sicuramente sarà una bella vetrina per la nostra città. D'altronde la struttura di Poggio degli Olivi è un'eccellenza del nostro territorio, e ospitare simili eventi è sempre un onore, un piacere per noi. D'altronde diciamo che anche per i ragazzi questa è un'ulteriore opportunità, ed è una bellissima cosa anche per confrontarsi ad altri livelli con un evento sportivo così.